La prima volta che assisto alla prima messa di un pontefice, sono molto emozionata soprattutto perché questo papa ci piace molto a tutti per la sua storia, anche per la sua umiltà. È emozionata? Sì, molto, mi sembra un sogno per essere sincera, sì tanto, non vedevo l'ora di arrivare. È molto, sicuramente sì, è veramente una bella emozione, poi la persona dà modo di emozionarsi ancora di più. Molto emozionata, guarda un'emozione enorme. Questo papa è eccessionale, ci si piace a tutti e ho conosciuto anche gente proprio che non credeva nelle cose. Invece dice, sono emozionati tutti.